Anche noi abbiamo il nostro concerto di Capodanno, da tempo desiderato, magari in presenza, però quest'anno riusciamo a farlo da questa splendida dimora, Villa Sigurtà, in streaming. L'appuntamento è domani 3 gennaio alle ore 18 sulla pagina Facebook del Comune. Questo concerto l'abbiamo voluto dedicare partendo dalle aree di Jacopo Foroni, un nostro concittadino, compositore e musicista molto noto in Svezia. Ma chi ci allietterà domani sarà il Visconti Ensemble con Valentina e gli altri. Lasciate la parola per farci conoscere. Grazie, buonasera a tutti. Noi siamo il Visconti Ensemble, formati dal mezzo soprano Susanna Kobian, il baritono Nico Mamone e al pianoforte Valentina Fornari. Ci chiamiamo Visconti Ensemble perché innanzitutto nel nome Visconti ci sono le nostre iniziali, appunto Valentina, Susanna e Nico, e poi per onorare il nostro ponte Visconteo e quindi il duca Visconti che nel 1393 appunto aveva fatto costruire il famoso ponte Visconteo. Questo per rimanere veramente collegati alla tradizione, alla cultura e alla storia anche valeggiana. Il programma di domani sarà molto vario anche se si concentrerà dal punto di vista dell'opera con appunto Jacopo Foroni e poi delle liriche di musica da camera a tratti diciamo dal repertorio dell'Otto e Novecento di compositori solo ed esclusivamente italiani per onorare appunto la nostra Italia come Tosti, De Curtis, Gastaldone e Ottorino Respighi. Credo che sia interessante magari far parlare un attimo Susanna su Jacopo Foroni. Studiando solo l'aria per questo concerto, l'aria di Margherita, della protagonista dell'opera, ho scoperto un compositore di gran gusto, di gran talento che è riuscito a formare il suo stile originale mettendo in combinazione la musica scandinava folcloristica insieme agli elementi di tarantella italiana e tutto questo avvolgendo nella struttura dell'opera tradizionale italiana molto simile a Donizetti che era addirittura il suo contemporaneo e primo periodo di Verdi. Dico, adesso la parola a te. Possiamo magari parlare un po' della figura di Jacopo Foroni musicista, non so se più sottovalutato o più sconosciuto ai più. Nel suo periodo è un compositore che aveva raggiunto anche una certa fama stava dirigendo la sua prima opera Margherita a Milano pochi giorni prima delle Cinque Giornate di Milano ecco, è stata non so se la diciottesima rappresentazione che sono scoppiata la rivolta nel 48 e Jacopo Foroni si è buttato nella rivolta ha combattuto anche lui, si è armato di fucile si è unito ai rivoltosi qui ne consegue che appena finita la rivolta ha dovuto scappare e fuggire dall'Italia ed è stato praticamente inviato in turnei, scusa di fare una turnei in Svezia e nei paesi scandinavi si è talmente trovato bene là che alla fin fine ci è rimasto per parecchio tempo purtroppo Jacopo Foroni more giovane a 34 anni di colera forse non ha avuto il tempo di farsi conoscere come avrebbe potuto è veramente un autore da riscoprire ecco, è un personaggio anche particolare la sua musica, parlando soprattutto da cantante è veramente molto interessante è impegnativa ma molto molto bella ci è trovato a poco più di vent'anni tra le venti e trent'anni come musicista di corte anche della Cappella Reale di Svezia è un bel uomo evidentemente ci sapeva anche fare è rimasto nel cuore di molti svedesi non ci resta che ascoltare e darci appuntamento domani domenica 3 gennaio alle ore 18 direttamente da Villa Sigurtà anzi, cogliamo anche l'occasione per ringraziare Clelia e Carlos per la gentilissima e amplissima disponibilità appuntamento domani grazie a tutti grazie a tutti